Ben ritrovati, miei belasfemi amici, a un nuovo approfondimento dedicato alle figure dei detective, dell'occulto, della letteratura. Sono Liviero, di Leggendo Kung Tulu. Oggi ci concentreremo su un personaggio largamente dimenticato della cultura moderna, ma cruciale per lo sviluppo del genere fantastico, il dottor Martin Eselius, creato da Joseph Sheridan Lefanu, Dublino, 1814-1873. Questa è la pronuncia che avrò per i nomi, chiedo scusa se li sto sbagliando. Laureato in legge, anche se non praticò come avvocato, si dedicò poi allo giornalismo e alla letteratura. Paradossalmente, Lefanu era convinto che i posteri lo avrebbero ricordato per i romanzi storici che gli avevano dato soddisfazione in vita, romanzi dei quali, nel giro di vent'anni, si erano però già dimenticati tutti, mentre invece entrò nella storia della letteratura per la sua creazione fantastica. Per ragioni anagrafiche, ha scritto di vampiri prima di Bram Stoker e di presenze misteriose prima di H.P. Lovecraft. Nel 1927, Lovecraft comunicò ad Erlet che Lefanu non gli aveva fatto una grande impressione, trovando le sue storie insipide e vittoriane, ma ammetteva di avere forse scelto non il meglio della sua produzione. Nel 1932 comunicava a Clark Anstorch-Smith di avere infatti letto Green Tea e di averlo trovato molto meglio delle altre sue opere che conosceva, ma che difficilmente lo avrebbe posto a livello di Poe, Blackwood e Macken, ed Erlet rimane con la sua idea iniziale quindi. Agus Derlet, presentando una raccolta di sue opere e lettori, lo definì l'equivalente britannico di Poe, anche in sé realtà non aveva nessun fondamento critico per affermarlo, e solo dopo di ciò venne preso in considerazione come maestro del fantastico, specie in relazione all'ispirazione che avrebbe avuto su altri autori. Si dice anche che Robert Louis Stevenson lo apprezzasse. In particolare sono celebri due suoi longhi racconti, Tè verde, Green Tea, e Carmilla, entrambi pubblicati nel 1872. La figura di Eselius diede origine a un vero e proprio modello nell'ambito delle indagatori del fantastico, come il Carnaki di Hodgson, l'antiquario di James e soprattutto per il John Silence di Blackwood. Lo stile di Lefano, a differenza degli altri scrittori, punta direttamente al dunque e non mira a trasmettere chissà quelle allegorie sociali, ma a comunicare il senso puro del male e del terrore incombente sulle vittime e sugli indifesi lettori. In questa ambientazione i fantasmi non sono un male che permane per perseguitare i giusti, ma sono una punizione postuma per equilibrare le azioni ingiuste compiute dai crudeli. Chi è il dottore Eselius? Il dottor Martin Eselius è un medico tedesco che appare in una serie di racconti del mistero di Joseph Sheridan Lefano. Tra i racconti del personaggio sono raccolti nella ormai mitica edizione 100 pagine per mille lire, Newton e Compton. Benché venga spesso elencato tra i detective dell'occulto della narrativa weird, non è propriamente un investigatore attivo come Carnaki, quanto piuttosto un testimone di fatti che sfidano la ragione umana e che si occupa di catalogare. In quanto medico viene spesso coinvolto in strani malesseri che, nella sua interpretazione, subiscono un'influenza dal mondo degli spiriti. Morto nel 1819 ha lasciato diversi documenti raccolti da un suo adepto che portano alla conoscenza del pubblico vicende spettrali misteriose, che lui ha affrontato con il consueto approccio scientifico e rigoroso. Il suo coinvolgimento più famoso è nella raccolta Carmilla, dove però è del tutto in secondo piano rispetto alla figura della languida vampira che insidia la protagonista e che costituisce a conti fatti il personaggio più famoso di Lefano, lasciando completamente in ombra il medico metafisico. Eselius è un filosofo medico che concentra la sua attenzione su fatti curiosi, riportando con minuziosa attenzione gli avvenimenti e realizzando veri e propri dossier. Pur essendo un medico, è un uomo che contempla la possibilità che i misteri dello spirito, della morte e di ciò che c'è oltre siano reali e molto più consistenti di quanto non si creda comunemente. È un autore di un saggio sulla medicina metafisica che lo rende un soggetto interessante per appassionati di materie non convenzionali. Eselius quindi applica un rigoroso approccio scientifico per curare vittime di fenomeni che hanno origine in tutto e in parte dal mondo inesplorato dell'innaturale. Rispetto agli altri detective dell'occulto, infatti, Eselius funge da anello di congiunzione tra la scienza e lo spiritismo, introducendo nel lettore la sensazione che un accurato metodo scientifico sia in grado di far fronte ai fenomeni altrimenti relegati alla superstizione. I cinque casi di Lefano, compreso la summenzionata Carmilla, sono stati pubblicati tra il 1851 e il 1872 e poi riuniti dall'autore nella raccolta Ina Glass Darkly, un oscuro scrutare, pubblicati interamente per la prima volta in Italia nel 2011 da Miraviglia. Le storie Tè Verde, Il Demone di Ogni Giorno, Il Giudice Hartbottle, La Stanza del Dragone Volante e Carmilla sono presentate come casi postumi esposti da un adepto di Eselius dopo la morte di quest'ultimo. Tè Verde, Green Tea. La storia si ispira alle teorie esoteriche esposte in Arcana Celestia, di Emmanuel Swedenborg. Il reverendo Jennings è un uomo affidabile e disponibile, che sembra avere dei malesseri quando visita la sua parrocchia. Inoltre segue con lo sguardo qualcosa sul pavimento che nessun altro vede. Nello studio del reverendo Eselius legge alcuni libri in latino, nel quale si accenna la vista interiore che, se sbloccata, permette di scorgere cose precluse agli altri. Con ogni uomo ci sono geni maligni provenienti dagli inferi, che dimorano tra il paradiso e l'inferno quando accompagnano gli uomini. Questi odiano gli uomini mortalmente e se si accorgessero di essere a loro associati, farebbero di tutto per distruggerli. Perciò un uomo che non sia in grazia di Dio accompagnato dagli spiriti è in grave pericolo. Questi gli parlerebbero con l'intenzione di distruggerlo. Una nota di Jennings riporta «Possa Dio avere pietà di me». Jennings gli parla intorno ai denigratori del dottor Harley, che lo ha in cura, da tutti molto stimato, siccome lo ritiene limitato nelle sue conclusioni materialiste. Jennings lascia intendere che qualche problema lo affrigge, senza svelarne nella natura. In seguito Eselius riceve un suo biglietto dove spiega di sentirsi meglio e di tornare alla sua parrocchia, colmo di gratitudine religiosa. Solo due giorni dopo però gli comunica il suo abbattimento e decide di recarsi dai suoi parenti nello Yorkshire. L'area di campagna non gli giova e il reverendo convoca Eselius a Richmond per spiegargli il caso per intero. Quattro anni prima Jennings studiava la religione metafisica degli antichi. Anche la sua indole cristiana era inadatta per studiare il paganesimo. In quel periodo inizia a bere sempre più frequentemente il tè verde. Un giorno a Londra nota una scimmia nera che, con scumento, riconosce essere un'illusione. La scimmia nera per un anno rimane accanto all'uomo e dimostra una malignità innata. L'essere perseguita dal reverendo stressandolo nel compimento delle sue funzioni in chiesa, diventando più aggressivo a mano a mano che la vittima cerca di pregare. L'uomo diviene sempre più stressato e i medici non riescono ad aiutarlo. Come se non bastasse, l'essere inizia a parlargli nella mente impedendogli di pregare. I due si separano e in seguito Jennings lo informa che la scimmia è tornata e che è al corrente della loro conversazione. Eselius torna da lui e lo trova con la gola squarciata. Eselius riferisce che nella sua carriera ha incontrato 57 casi di visioni che ha curato in maniera dirigente. Secondo lui, il fluido che collega cuore e cervello può essere alterato da un eccesso di tè, squilibrio il quale gli spiriti si appoggiano per colpire le vittime. Se solo avesse potuto curare Jennings con il tempo dovuto, sicuramente avrebbe richiuso l'occhio interiore e l'avrebbe salvato dalle sue tendenze suicide ereditarie. La persecuzione. The familiar. Questa storia è una revisitazione del precedente racconto The Watcher del 1851. Nel 1794 Sir James Burton torna a Dublino dal servizio in marina. Costui fa domanda di matrimonio a Miss Montague, nipote di Lady Lelle. Burton è un deciso scettico del sopranaturale. Una notte tornando a casa ha la sensazione di essere seguito ma non vede nessuno. A casa trova una lettera che lo dissuade dal percorrere tale strada. Firmata colui che veglia. Viene avvicinato ad un uomo basso col cappello di pelliccia che lo guarda con aria ostile e che lo lascia stravolto siccome gli ricorda qualcuno del suo passato. Inizia a udire voci accusatorie e i timori si concretizzano nella forma di un sinistro uccello di Miss Montague. Nemmeno l'intervento del generale Montague, padre della fidanzata, riesce a salvare Burton dalla vendetta di un uomo morto a causa delle sue azioni malvagie compiute anni prima che erano costate la vita a una ragazza e a suo padre. In questo caso le cattive azioni commesse in vita richiamano l'intervento sopranaturale di ripienamento dei torti anche se Eselius non si pronuncia sulla natura sopranaturale del caso. Il giudice, Mr. Justice Arbottle. La storia è una rivisitazione di Unaccount of Some Strange Disurbance in Anguier Street, un titolino, del 1853. Un londinese di nome Anthony Arman racconta la storia ambientata tra il 1746 e il 1748. Il crudele giudice Elijah Arbottle viene molestato da spiriti vendicativi, frutto delle sue crudele sentenze, è messa in vita e condotto alla morte da un mostruoso doppelganger. La stanza al dragone volante. The Room in the Dragon Volant. Un ingenuo inglese in viaggio in Francia, Richard Beckett, decide di salvare una donna, a suo dire vittima di un matrimonio senza amore, con il sessantenne conte di Street Allier. Si stabilisce quindi nella locanda del dragone volante, dove si sono verificate strane sparizioni. In realtà si tratta di un piano criminale, di una banda di ladri che seppelliscono vive le vittime dopo averle drogate con un alcaloide. Eselius riporta che simili pozioni erano note fin dal Medioevo. Carmilla. Il personaggio di Carmilla è divenuto simbolo stesso di Vampiro Donna e ricordato come il primo esempio di vampira lesbica. La storia ha influenzato Dracula di Bram Stoker, il film Vampyr di Carl Theodor Dreyer del 1932, il film The Vampire Lovers della Hammer del 1970 e la web series canadese Carmilla. Per quanto riguarda Carmilla ti linko in descrizione un video apposito che la esplora nel dettaglio. E con questo è tutto, lasciami un commento, noi ci vediamo alla prossima.